Il 22 maggio si terrà l'udienza sul ricorso attivato da Regione Abruzzo rispetto alla legge che stabilisce che i canoni di concessione in regione debbano finire nella fiscalità generale. Il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso questa mattina a Pescara ha illustrato la strategia dell'amministrazione per contrastare l'aumento dei pedaggi su strada dei parchi, cioè a 24 ed a 25, aumento che corrisponde al 12,89%. Il presidente della regione ha spiegato che l'ente da lui amministrato agirà su tre fronti. Per questa ragione abbiamo fatto ricorso alla Corte Costituzionale e il 22 di maggio si pronuncerà la Corte Costituzionale che determinerà secondo me con argomenti fortissimi e assolutamente resistenti ad ogni contradduzione per fare sì che i canoni di concessione, quelli che dall'Abruzzo vanno nella fiscalità generale, vengano dedicati a favore degli abruzzesi comprimendo quella parte impazzita di aumenti delle tariffe autostradali che non è giusto che i consumatori e i pendolari abruzzesi debbano sostenere con le proprie tasche. Noi abbiamo anche un numero che non va valicato per quanto riguarda gli aumenti e il 2% più i costi dell'inflazione. Ogni anno al massimo questo è quello che si può determinare ma accanto all'iniziativa davanti alla Corte Costituzionale che ripeto il 22 di maggio si pronuncerà noi lavoriamo anche per una nuova norma che stabilisca per esempio un limite invalicabile che determini un rapporto migliore tra gestore e utenza, un controllo più adeguato e un piano economico finanziario che permetta a questa autostrada di essere in sicurezza per sempre senza mai sorprese. Noi lavoreremo anche per fare in modo che la vigilanza ministeriale sia una vigilanza che non produca la sorpresa per esempio di un decreto che validi aumenti che sono oltre la soglia della sostenibilità.